Penso che sia ormai chiaro agli italiani che Grillo e Di Maio hanno tradito la ragione fondante dei 5 Stelle alleandosi col PD che è il partito del sistema. Un movimento antisistema che si allea col partito che difende il sistema evidentemente ha finito la sua ragione d'essere. È chiaro che ci sono tanti elettori ed eletti che vorranno continuare la loro battaglia di cambiamento con la Lega e se sono persone per bene e motivate sono e saranno i benvenuti. Noi non andiamo a cercare nessuno, ne promettiamo niente a nessuno, però abbiamo voglia di crescere e lo faremo già nelle prossime settimane. O col PD proprio no, quando io dico mai col PD, col 5 Stelle e altro del PD sicuramente no.